Salve a tutti, quest'oggi vedremo come ottenere la traduzione e l'interfaccia di Blender in italiano. Per fare questo è molto semplice, basta cliccare su File, User Preference e dalla scheda System flaggare su International Phones. Adesso selezioniamo la traduzione alla quale siamo interessati, nel nostro caso italiano, e clicchiamo sui tre tasti che ci vengono proposti. Adesso salviamo le impostazioni per una futura apertura di Blender in italiano. Ed il gioco è fatto. Bene, questo è tutto, alla prossima!